Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà all'Aquila il prossimo 21 giugno per festeggiare i 243 anni della Guardia di Finanza, che si costitui, lo ricordiamo, nel 1774 nel Regno di Sardegna. Mattarella sarà presente alla cerimonia di celebrazione dell'anniversario nella Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza a Coppito. Con lui ci sarà anche il Ministro dell'Economia e delle Finanze Padoan e tutte le altre autorità militari, civili e religiose. La visita di Mattarella, secondo quanto si apprende, questa volta dovrebbe limitarsi alla cerimonia della Guardia di Finanza. Per la prima volta il Presidente della Repubblica venne in visita all'Aquila per partecipare invece all'inaugurazione dell'anno accademico e del nuovo Palazzo di Giustizia. In quel giorno fece tappa anche a Onna, il borgo più colpito dal terremoto del 6 aprile 2009, e nella casa dello studente dell'Aquila, dove depose una corona.